ciao mamme siamo alle coccole io sono silvia e oggi vi parlo dei costumi contenitivi perché utilizzarli al posto dei normali pannolini d'acqua allora innanzitutto per perché sono più pratici sono più comodi da mettere e togliere il bambino sta molto meglio perché il pannolino d'acqua lo appesantisce nell'acqua a meno che non sia un pannolino che non si gonfia ma se è un pannolino che non si gonfia certo quando è nell'acqua il bambino non non sarà appesantito ma poi quando esce dall'acqua glielo dovete cambiare immediatamente perché potrebbe dargli irritazioni fastidi eccetera in ogni caso il pannolino d'acqua va cambiato subito dopo il bagnetto perché comunque resta bagnato con l'acqua del mare che potrebbe dare irritazioni mentre il costume lavabile semplicemente anche questo lo sfilate e poi gli mettete il pannolino il pannolone normale o un altro costumino asciutto come fareste normalmente con il vostro costume ecco i pannoloni poi naturalmente un pochino legano i movimenti con il pannolino con il costume contenitivo invece il bambino è molto più libero di muoversi e di giocare è più traspirante naturalmente faccio senza dirvelo ci saranno 10.000 gradi e insomma adesso detto proprio così con le mutande di plastica non sta bene nessuno mentre con il costume contenitivo il bambino sta meglio perché è un pochino più trasferante ci sono tante fantasie quindi può scegliere anche il bimbo quella che gli piace di più col dinosauro col pesciolino con insomma ce ne sono tante in più questo marchio a differenza di altri noi lo scegliamo ormai da diversi anni perché vi faccio vedere allora l'elastico sulle cosce è morbido chiude chiude bene in modo che non ci siano fuori uscite però è molto morbido quindi non lascia segni rossi sulle gambe del bimbo e anche naturalmente in vita l'elastico è molto morbido in più questo marchio ha in particolare vedete questi bottoncini che vi permettono di sfilare il pannolino senza dovergli togliere la seconda pelle perché la licra fa aderenza al corpo quindi risultano anche molto pratici in più hanno una una diciamo un'etichettatura una scelta di taglie ecco più che l'etichetta una scelta di taglie che è molto ravvicinata quindi ci sono pochi chili di distanza non c'è il costume 12 mesi costume sei mesi ma ci sono i chili e pochi chili di distanza in modo da essere il più possibile corrispondenti alla corporatura del vostro bambino per esempio questo vi faccio vedere è 7 10 chili ok già il bambino che ha 10 chili magari gli si può consigliare anche il 9 12 insomma per cui vi dico sono di solito abbastanza giusti come taglie ecco mentre altri costumi che ho acquistato in passato avevano proprio le taglie 6 mesi 12 mesi eccetera e questa cosa è scomoda perché come sappiamo ogni bambino è a sé inoltre ecco allora perché prendergli il costume invece che lasciarli nudi allora io sono abbastanza contraria perché comunque la parte dei genitali è una zona molto molto delicata sempre quando sono piccoli fino ai 4 anni molto di più in più loro si appoggiano sulla sabbia e la sabbia si può anche infiltrare nelle piegoline della pelle e dare generare delle fastidiose sfregature oppure portare batteri e funghi e come dice poi inoltre il non mi veniva la parola scusate l'acqua salata sui genitali è comunque molto molto fastidiosa quindi mettete sicuramente qualcosa ai vostri bambini non lasciateli nudi possibilmente un costume contenitivo io vi aspetto in negozio così vi faccio vedere tutti i modelli ciao ciao